Non ho sentito nulla sinceramente anche se ero sveglia. Qualche mese fa è successo che c'era l'ambulanza e lei era stata picchiata dal marito anche perché lei aveva pubblicato poi la foto dell'accaduto ma che potesse fare una cosa del genere. Ah l'aveva pubblicata addirittura su Facebook? Sì, però poi l'ha tolta subito. Quindi c'erano già stati degli episodi? Sì, anche ieri aveva pubblicato una cosa riguardando il marito su Facebook. In questi giorni te hai provato a parlare con loro? No, uscivo con lei un po' di tempo fa però non avevamo più contatti, la dovevo vedere il giorno 11 veramente perché faceva le foto per i quali abbiamo appreso la notizia. Comunque l'ultimo episodio che voi ricordate risale a qualche mese fa. Ma forse manco un mese fa. Un mese fa che era questo dell'aggressione. Sì, sì, sì. Ma l'aggressione cosa vuol dire? Lei è finita all'ospedale per l'aggressione? Sì, sì, c'era l'ambulanza e l'hanno portata via con l'ambulanza perché io non so che cosa le hanno fatto perché comunque sono nell'altro palazzo quindi lei aveva pubblicato questa foto però tramite mia cugina mi aveva raccontato perché sono amiche con mia cugina. C'era stato anche un intervento dei carabinieri? No. Quel giorno? Non ne sono sicura, non mi ricordo. Forse sì, non voglio dire cosa era. Lei con voi non si confidava mai su problemi che potesse avere? Con me personalmente no perché comunque è l'età diversa. Io ho 27 anni, lei ne ha 40 quindi magari parlava più con le mie cugine perché uscivano insieme, che hanno la stessa età. erano nel gruppo dell'amica di mia cugina insomma. Certo. Certo. Certo.